Ad Ambiente Lavoro di Bologna siamo con Paola Fontana, responsabile commerciale SelfSafe. Di che cosa si occupa SelfSafe? Buongiorno, SelfSafe è un sistema che consente l'erogazione automatica del DPI. Nelle aziende è possibile consegnare il materiale antinfortunistico utilizzando dei sistemi automatici. Noi sfruttiamo dei distributori automatici che con diverse tipologie e tecnologie erogano i guanti, le mascherine, i tappi auricolari. In questo modo il dipendente con una tessera, che può essere il beige aziendale, si identifica presso un nostro lettore e ritira il materiale di cui necessita. Questo tipo di sistema può essere utilizzato anche per il materiale di consumo, quindi vitteria, cancelleria, tutti quei prodotti che quotidianamente in azienda si utilizzano. Tutte le transazioni che si effettuano presso il distributore automatico vengono memorizzate all'interno di un nostro software che permette di vedere chi, quindi il nome e cognome, l'articolo che è stato prelevato e in che momento. In questo modo io riesco a capire se un dipendente ha prelevato troppo materiale antinfortunistico, magari per troppo zelo, oppure ha prelevato poco materiale e quindi posso fare le mie osservazioni.